E' interessante per voi? A noi non interessano scambi di voti, ripeto ci interessano persone che possano rappresentare bene all'interno di consulte CSM i ruoli che devono andare a ricoprire. E' chiaro che in posizioni per accordi fatti non in Parlamento ma nei vari nazareni 1, 2 o 3 non ci interessano, evidentemente se credono di essere autosufficienti vadano avanti per la loro strada.